Indovina la nazionale del calciatore Paolo Di Bala Argentina Karim Benzema Francia Romelu Lukaku Belgio Carlos Casemiro Brasile Erling Haaland Norvegia Kevin De Bruyne Belgio Raffaele Ao Portogallo Eung Min Son Corea del Sud Victor Rosiman Nigeria Bernardo Silva Portogallo Portogallo Luka Modric Croazia Federico Chiesa Federico Chiesa Marquinhos Marquinhos Brasile Jude Bellingham Inghilterra 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 Frankie De Jong Paesi Bassi Paesi Bassi Neymar Junior Brasile Sofian Amrabat Marocco Sadio Manet San Diego Manet Senegal Federico Valverde Uruguay Uruguay Lautaro Martinez Argentina Argentina Phil Foden Inghilterra Sergei Milinkovic Savic Serbia Kylian Mbappé Francia Kalidu Koulibaly Senegal Thiago Alcantara Spagna David Alaba Austria Il Kai Gundogan Germania Gabriel Jesus Brasile Olivier Giraud Francia Vinicius Junior Brasile Reese James Inghilterra Inghilterra Acra Fakimi Marocco Marcello Brozovic Croazia Croazia Luiz Diaz Colombia Lionel Messi Argentina Argentina Bukayo Osaka Inghilterra Filip Kostic Serbic Alfonso Davies Serbia Alfonso Davies Canada Mike Mignan Francia Kingsley Command Francia Antonio Rudiger Germania Sergio Busquets Spagna Cristiano Ronaldo Portogallo Ndolo Cantè Francia Keylor Navas Costa Rica Domanda bonus Rispondi alla domanda bonus nei commenti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada